La sottoscrizione di un importante accordo con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo segna l'inizio di una nuova stagione per la Biblioteca Civica di Cosenza, che riprenderà tutte le attività che l'hanno contraddistinta fin dal 1917, quando venne eretta ente morale e ne venne approvato lo statuto. Grazie all'accordo che stamattina sarà sottoscritto tra la Biblioteca Civica e il Ministero per i Beni Culturali, sarà distaccato personale della Biblioteca Nazionale alla Biblioteca Civica. Questo ci permetterà di valorizzare il patrimonio esistente, oltre che di dare nuova vita alle attività della Biblioteca. Per la Biblioteca Civica di Cosenza dunque inizia un nuovo percorso di valorizzazione e una più efficace fruizione del patrimonio librario, grazie alla sinergia con la Biblioteca Nazionale. È un accordo di valorizzazione ma con un obiettivo triplice, in quanto da un lato sicuramente valorizziamo il patrimonio bibliografico, dall'altro lato comunque cercheremo sicuramente di aumentare la fruizione dello stesso e chiaramente con questa sinergia tra le due biblioteche, quindi quella statale con quella civica, e quindi con il supporto non soltanto di risorse umane ma anche strumentali, sicuramente insomma penso che sarà un servizio importante per il territorio. La soddisfazione è che questa proiezione di questo accordo ha ritrovato riscontro in tutti gli interlocutori, quindi è stato in qualche modo anche facile attuarlo, perché quando c'è un intento congiunto l'attuazione poi chiaramente aspetta i tecnici, ma quello è un gioco facile. Questa cosa si è potuta fare solo per la forte sinergia che c'è stata tra la provincia e il comune di Cosenze. È stata grande apertura anche del sindaco Ciuto e io di questo lo devo ringraziare. L'abbiamo fatto e si poteva fare solo con l'accordo tra le due istituzioni che sono poi, diciamo così, i soci della biblioteca civica. Io dico sempre che c'è il momento della battaglia politica, delle elezioni, poi c'è il momento di costruire e di amministrare. Questo è un momento che ha anche un significato importante, collaborazione fra istituzioni che è sicuramente un fattore che ci fa crescere.